Se è vero che chi bene incomincia è a metà dell'opera, allora il Comitato San Giovanni d'Imperia non può che essere soddisfatto. Ieri sera, infatti, nel prologo prima del taglio del nastro ufficiale di oggi, si è già registrata una notevole affluenza di pubblico, sia nell'ampio spazio della festa di piazzale Padre Cristino Daoneglia, che in Calatacuneo, nello spazio destinato alle proposte commerciali di mercantineia. Le cucine e la megapentola gioanina con l'immancabile stoccafisso allonegliese hanno già lavorato a pieno ritmo. Un'atmosfera di festa che ha coinvolto anche i locali che si affacciano su Calatacuneo, dove il lavoro non è mancato. Tante le proposte del Comitato San Giovanni per le serate da qui al 26 giugno, che coinvolgono anche realtà sportive e associative d'Imperia, dando ampio spazio ai più giovani. Musica, balli, pesche di beneficenza e rassegna di testimonianze sulla storia delle industrie imperiese sono solo alcuni degli esempi del ricco programma dei festeggiamenti INEIA 2017, che come sempre hanno il loro punto di forza nelle cucine, che ogni sera preparano oltre allo stoccafisso nelle pentole dei record spaghetti al sugo e al pesto, penne al sugo all'arabbiata, minestrone lunegnese, grigliate di carne, fritture di pesce, cozzera marinare a cundiyun. Novità di quest'anno è anche la collaborazione con Tallone attraverso uno stand che propone trippe fritte e prodotti a base di carne. Non mancheranno poi serate dedicate all'acciuga e anche ai piatti tipici della Valla Roscia, ospite d'onore di quest'anno. Alla festa di San Giovanni c'è anche la Valla Roscia, una presenza importante, qui abbiamo un bel parterre di amministratori, ma ce ne sono tanti altri che arriveranno e si alterneranno, uno stand che vuole mostrare al pubblico la presenza di un territorio vicinissimo al mare che può offrire tanto. Sì, noi dobbiamo ringraziare il Comitato San Giovanni, tutta la Valla Roscia, perché ha dato questo spazio e la possibilità di pubblicizzare i nostri eventi. Come avrà sicuramente già detto il Comitato, quest'anno la festa è incentrata e come aiuto per tutti i comuni della Valla Roscia e di questo noi ne siamo orgogliosi. Tra l'altro dobbiamo dire che la Valla Roscia porta anche i suoi sapori, non solo i manifesti, perché sarete presenti concretamente con i profumi e i sapori di questo territorio. Sì, assolutamente sì, tutte le sere un comune della Valla Roscia porterà un piatto durante la festa e si potrà degustare nel menù del Comitato San Giovanni. Perché abbiamo ricordato purtroppo gli eventi alluvionali della Valla Roscia, ma dobbiamo ricordare molto di più il fatto che questa Valla Roscia c'è, esiste, più forte che mai e i cittadini, gli abitanti non mollano mai, è vero? Assolutamente, la nostra presenza è qua proprio a testimoniare tutti gli eventi che si possono trovare nei nostri comuni in valle e come dico sempre ogni volta che riesco a parlare con qualcuno, se venite in uno dei nostri comuni, ci venite a trovare, venite anche solo a prendere un caffè. A giro in tutti bisogna andare, in tutti i comuni? Assolutamente sì, assolutamente in tutti i comuni perché abbiamo veramente bisogno di far vedere quello che abbiamo fatto, come siamo riusciti a rialzare la testa, c'è ancora tanto lavoro da fare ma noi ce la stiamo mettendo tutta.